Migliaia di seguaci del leader sciita, Muqtada al-Sadr, hanno occupato il Parlamento iracheno per protestare contro la possibile nomina primo ministro del candidato filo-iraniano, Mohammed al-Sudani. Molti di essi hanno trascorso la notte nell'edificio. Per la seconda volta in una settimana, le forze di sicurezza hanno utilizzato gas lacrimogeni nel vano tentativo di disperdere i manifestanti. E' un momento molto difficile, sfortunatamente è l'amara verità. Dobbiamo collaborare e stare insieme, non ci spingiamo nell'abisso. Dobbiamo giudicare con le nostre menti, le nostre coscienze, i nostri sentimenti e attenerci all'Iraq e agli iracheni, non ad interessi meschini. Chiedo a tutti di essere pazienti, calmi e razionali, non essere attratti dallo scontro. Invito i cittadini a non scontrarsi con le forze di sicurezza e a rispettare le istituzioni statali. I manifestanti hanno usato funi e catene per abbattere le barricate di cemento che portavano al cancello della zona verde, che ospita edifici governativi e ambasciate. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute ci sarebbero almeno 125 feriti. Il Presidente del Parlamento, Mohamed Al-Busi, ha sospeso le sessioni future sino a nuovo avviso.